Gina Gianni, amministratore delegato di Toscana Aeroporti, non conosce più limiti l'aeroporto di Pisa, dottoressa Gianni. Ormai sta andando alla grande, sempre in aumento i passeggeri. Cosa c'è da fare ancora? In grandirlo, non è uno scherzo. L'aeroporto di Pisa all'interno del sistema aeroportuale toscano sta vivendo una stagione di crescita importante, siamo nei mesi estivi intorno al 5-6% sugli oltre 5 milioni dell'anno scorso. Abbiamo spesso episodi di congestione, 27 luglio inaugureremo un ampliamento della sala partenze e un ampliamento della sala arrivi, noi la chiamiamo fase zero perché è preliminare a un grande investimento di circa 40 milioni di euro che faremo sostanzialmente per raddoppiare il termine a passeggeri. Questo e i lavori che abbiamo previsto per l'ampliamento dell'aeroporto di Firenze daranno alla Toscana un bel sistema aeroportuale e daranno al porto di Livorno un livello di connettività aerea per il business delle crociere di assoluto rilievo. E poi come si dice sta a noi. Senti, ha visto che ha parlato dell'ampliamento di Peretolo, Vespuccio, dal porto di Firenze, mi pare ci sia un po' di discussione in corso tra il nostro governatore e il ministro. Io non voglio entrare su questione politica perché sono una manager, però voglio dire che la nostra società è determinata a sviluppare al massimo e secondo i piani di sviluppo e master plan dei due aeroporti, i due aeroporti strategici della Toscana e dare alla Toscana un sistema aeroportuale che veramente sia in linea con l'attrattività turistica e commerciale della nostra regione.